Ero spaventata l'idea di progettare la mia casa, ma grazie al supporto e alla professionalità di cicalesi interni mi sono ricreduta. È di 2616 il numero dei positivi al Covid-19 a Cava dei Tirreni. Questo il dato aggiornato comunicato dall'Asla Salerno, distretto sanitario 63, che rispetto all'ultimo report registra anche un nuovo decesso, portando così a 52 il totale delle vittime in città. Un numero elevato che non è altro che lo specchio della situazione critica che ormai tutta la regione Campania e l'intera nazione stanno vivendo. Infatti, la brusca impennata di contagi in Campania ha fatto registrare ieri nell'ultimo bollettino diramato dall'unità di crisi ben 27.034 nuovi positivi al virus, tra cui 4.375 quelli in provincia di Salerno. Nel frattempo prosegue speditamente la campagna di vaccinazione. Piattaforma ieri in tilt per la prenotazione degli adolescenti, dopo il sold-out di diversi hub dove erano previste le inoculazioni dei ragazzi fra i 12 e i 18 anni. Tantissime anche le somministrazioni di terze e seconde dosi. Intanto, dopo la sospensione di tutti i ricoveri e interventi programmati, così come della specialistica ambulatoriale non urgente, indicata dalla regione e dal ministero, Il Ruggi di Salerno, per far fronte all'emergenza sanitaria, riattiva i primi sei posti letto di pneumologia 2 Aldaprocida e accorpa i reparti ospedalieri e universitari di otorinolaringoiatria e di oculistica, per dirottare posti letto e operatori al contrasto della pandemia. Caos anche nel mondo della scuola, dove con il rientro fra i banchi degli alunni si registra un'ondata di richieste di ripristino della didattica a distanza. Più di 2800 istanze hanno travolto le segreterie dopo soli tre giorni di lezione in presenza. Intanto, continua lo sciopero degli studenti delle scuole superiori, che richiedono screening a tappeto, il potenzionamento delle corse dei bus, la dotazione di mascherine FFP2 e la possibilità di seguire per due settimane le lezioni da casa, a causa dell'emergenza sanitaria.